Ciao a tutti, dopo l'attività di laboratorio che abbiamo interrotto per fare un attimo un punto di raccolta anche per capire che cosa si può fare per lo spazio pubblico, abbiamo chiamato già Daivandri di Esterni che ci racconterà le esperienze di Esterni e anche per attivare un po' questo collettivo di designer che vorremmo creare dopo questo workshop. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono qui per raccontarvi un'esperienza che è quella di Esterni che esiste dal 1995, è nata a Milano e appunto è una storia, anzi quello che vi presenterò oggi è una somma di tante piccole storie, di tanti piccoli esperimenti, sperando che possa appunto interessarvi e a volte vedrete delle cose che magari sembrano apparentemente un po' distanti una dall'altra ma poi vedrete che in realtà una logica c'è. Quindi niente, comincio un po' con questa carrellata molto veloce, questa è un'immagine abbastanza esemplificativa perché è composta di due elementi, uno questo claim molto basico che è questa una piazza, che è esattamente quello che guida ogni nostro tipo di intervento. Noi andiamo a costruire piazze, le piazze sono luoghi dove ci sono le persone, dove le persone interagiscono, quindi questo è quello che noi cerchiamo di fare. Come? Con tanti tipi di formati diversi, in alcuni casi possono essere degli eventi, in alcuni casi possono essere dei progetti più lunghi, quindi che hanno un carattere più permanente. A volte andiamo ad esplorare discipline molto diverse, abbiamo delle passioni di base, siamo un gruppo molto eterogeneo e quindi in realtà più che seguire una strategia a tavolino per ora abbiamo sempre seguito più che altro le passioni e anche la voglia ogni volta di crescere e di sperimentare. L'altro elemento che mi piaceva perché raggruppa abbastanza il nostro modo di fare è il fatto che questa immagine era chiusa sostanzialmente in un cartello stradale perché già racconta molto di come lavoriamo e di dove lavoriamo, cioè noi lavoriamo appunto negli spazi pubblici con un modo di fare anche molto urbano, un po' grezzo se vogliamo a volte e poi perché in realtà questo strumento di comunicazione diversi anni fa ci ha dato abbastanza visibilità perché siamo stati probabilmente i primi a Milano ad utilizzare esattamente i cartelli stradali riproducendoli in tutto e per tutto negli stessi formati, negli stessi supporti per comunicare dei messaggi molto banali ma che nella loro banalità andavano a colpire i passanti con dei messaggi che non erano esattamente quelli quotidiani e da lì poi abbiamo fatto veramente una vera e propria declinazione di questi soggetti durante gli eventi piuttosto che sono diventati dei gadget, insomma sono diventati per diversi anni quasi un elemento distintivo perché pensavamo che fosse un oggetto abbastanza iconico. Quello che vi mostro adesso è sostanzialmente il primissimo vagito di esterni nel 1995, era un primo evento molto sperimentale fatto da quelli che allora erano dei ragazzi ventenni che studiavano che hanno deciso di fare una sorta di evento performance di fronte alla Borsa, quindi al Palazzo della Borsa Milano e ottenendo sostanzialmente la prima sponsorizzazione tecnica della loro vita hanno convinto un'azienda a regalargli queste tute bianche che sono quelle usa e getta che tipicamente si usano per esempio in ambito medicale con cui sostanzialmente tutti i partecipanti sostanzialmente che arrivavano in piazza, trovavano una sorta di checkpoint obbligatorio e dovevano indossare questa tuta. Come a dire da questo momento in poi tutti quelli che partecipano a questo battesimo di esterni così annullano un po' preconcetti, pregiudizi, vanità, si mettono in gioco per quello che sono perché siamo tutti uguali, siamo tutti bianchi e abbiamo soltanto il modo in cui ci relazioniamo. Poi in questa piazza accadevano anche una serie di attività molto legate a dinamiche di gioco che facilitavano appunto l'incontro tra persone che non si conoscevano. Pensate che era il 95 a Milano, quindi una città che così nell'immaginario normalmente è abbastanza fredda, dove le persone raramente hanno voglia di relazionarsi e sicuramente in quegli anni non c'erano tantissimi progetti negli spazi pubblici e non c'erano soprattutto i social media e quindi tutta l'attitudine che hanno portato. Quindi c'era probabilmente chi partecipava per curiosità, chi pensava di andare ad una festa e si è trovato magari all'inizio un po' scioccato, anche un po' infastidito, tutti quelli che hanno partecipato se la ricordano. Vi garantisco che ancora adesso quando capita che incontro delle persone a cui dico che lavoro per esterni mi dicono, ah io c'ero quella volta, me lo ricordo ancora, perché è stata comunque una cosa abbastanza forte per un territorio che era abituato solo a cose molto patinate e molto codificate. Questo anche è stato un altro dei primissimi esperimenti fatti a Milano, devo dire che il low budget, che rasenta lo zero budget, ci ha sempre caratterizzato, sostanzialmente questa è la stazione centrale per chiunque di voi l'abbia mai frequentata. Al di fuori c'è una piazza molto grande che si chiama Piazza Duca d'Aosta che è enorme, che non è un bellissimo biglietto da visita per la città, anche se in realtà avrebbe molto potenziale perché è molto grande, anche un'architettura molto particolare, ma sostanzialmente a tratti può essere identificata come un luogo pericoloso, a tratti invece semplicemente come un luogo da attraversare il più rapidamente possibile perché si va a prendere un treno. Così, l'esperimento molto basilare dal punto di vista produttivo, ma che sicuramente ha dato comunque anche lì un altro piccolo motivo di pensare ai passanti è stato circondare gli accessi alla piazza con questo scotch che abbiamo prodotto, che ho scritto appunto, questa è una piazza, che è un messaggio direi abbastanza comprensibile da tutti e abbastanza basico, senza andare appunto su filosofie altissime, proprio per come mettere delle frecce segnalatrici e dire alle persone, guardate che questa, voi me ne siete mai accorti, ma sarebbe una piazza, sarebbe un luogo dove le persone dovrebbero fermarsi, incontrarsi o comunque un luogo da vivere. Questa appunto poi, fortunatamente la cosa che gioca sempre abbastanza a favore, diciamo, di Milano è che spesso passano comunque molti giornalisti o comunque persone attente e quindi è stata anche questa molto ripresa, nella sua semplicità, devo dire. Però anche lì era sempre 95, un'altra scossettina, diciamo, nell'immaginario almeno è stata data. Questo invece, tanto per farvi vedere, vi farò vedere tre immagini in sequenza per farvi vedere come un progetto può nascere a livello molto intuitivo, a volte provocatorio e poi può diventare un vero progetto, un lavoro. In questo caso... E' una procedura di azione, quindi la marketing, non? Sì, sì, nel senso che in realtà noi ogni volta che abbiamo fatto qualcosa l'abbiamo sempre fatto richiedendo tutti i permessi del caso perché appunto volevamo evitare poi di essere bloccati. però hanno abbastanza quell'approccio anche se poi appunto la guerriglia ha avuto mille devianze ci sono delle cose molto belle, famosissime, guerriglia gardening ci sono delle cose che poi diventano semplicemente dei grandi spot a cielo aperto però l'approccio è un po' quello. L'unica cosa che abbiamo fatto per necessità, senza alcun permesso è stata la segnalitica stradale perché non ti autorizzano in nessun modo a mettere dei cartelli in tutto e per tutto somiglianti nei pali laddove c'è una segnalitica ufficiale e quindi l'abbiamo messa. L'ultima volta che l'abbiamo utilizzata, questa segnalitica poi magari vi farò vedere l'abbiamo usata 3-4 anni fa quando a Milano sono state messe un numero incredibile di videocamere per regolamentare gli accessi, per sicurezza, insomma ed era stata fatta un'analisi dalla quale emergeva che a Milano rispetto al numero di abitanti c'era il maggior numero di videocamere di controllo pro capite. Quindi da questa notizia abbiamo fatto dei cartelli con un grande obiettivo con scritto sorriditi stanno filmando e li abbiamo messi in tutti i varchi della città in tutti i luoghi strategici dove c'erano delle telecamere di sicurezza per cui appunto vicino alle banche e via dicendo. Come a dire? Riflettiamo semplicemente se effettivamente servono o se è un modo per mettere una pezza ad un problema che può essere anche di ordine pubblico ma poi dopo cosa succede? Ovviamente questa cosa è stata fatta veramente in modalità guerriglia quindi di notte sono stati montati tutti questi cartelli il giorno dopo il Corriere della Sera ha ripreso la notizia il giorno dopo ancora ovviamente il Comune ci ha chiamato dicendo se potevamo rimuoverli sapevamo che doveva essere una cosa molto temporanea e lo scopo era anche un po' quello rispetto all'amministrazione di fare ogni tanto qualcosa che comunque li scuotesse. Questo invece è stato un progetto una delle mille piccole intuizioni anche questa abbastanza in là nel tempo dove semplicemente abbiamo messo laddove c'erano degli aiuoli sparti traffico comunque delle zone verdi incastrate in vie ad alto scorrimento insomma in luoghi un po' improbabili delle semplici amache molto economiche non erano neanche tanto tanto rifinite per suggerire alle persone che in realtà la pausa, la sosta, l'incontro è più un'attitudine lo puoi trovare un po' dove vuoi basta veramente poco da questa piccola intuizione anche qui lo budget vedrete che è una caratteristica che ci perseguita per scelta e per necessità è nato un progetto un po' più strutturato quindi un vero e proprio arredo urbano abbiamo pensato che facendo una struttura molto più ingegnerizzata progettata, pensata che non ci eliminasse tra l'altro un sacco di problemi anche di responsabilità e via dicendo perché questa è una struttura invece proprio pensata mentre l'altra è più un intervento un po' così più improvvisato questa struttura poteva anche di nuovo come avevano fatto i cartelli in tempi passati potevano raccontarci essere un elemento distintivo le persone passando potevano ricordarci potevano ricordarci come appunto gli autori di questo intervento e così abbiamo prodotto questo oggetto poi mano a mano abbiamo visto che piaceva e che per esempio poteva essere noleggiato anche per altri eventi e via dicendo e quindi ne abbiamo prodotti anche altri e rappresenta così un piccolo modulo di riconoscibilità un piccolo progetto di arredo urbano tant'è che per esempio alcuni sindaci per esempio ce l'hanno anche chiesto magari per durante l'estate proprio come oggetto di arredo urbano da qui più sviluppato ancora ci abbiamo fatto un intero progetto itinerante quindi una struttura molto più impegnativa che questa volta ha trovato anche la sponsorizzazione di un'azienda quindi una struttura che aveva sicuramente dei costi di produzione differenti anche una programmazione artistica una rifinitura anche di un altro tipo però l'idea era piaciuta piaceva molto l'approccio e in questo caso l'abbiamo portata era una struttura molto grande anche se poi era modulare per cui di volta in volta l'adattavamo l'abbiamo portata in diverse città d'Italia sempre in grandi parcheggi come a dire invece che l'automobile e i ragazzi possano parcheggiare se stessi rilassarsi avere uno spazio incredibile montato notte e tempo che ti cambia completamente la percezione dei tuoi luoghi quotidiani pensate che a Roma l'abbiamo messa nel parcheggio fuori dalla sapienza luogo più quotidiano che c'è per uno studente che di mattina arriva e si trova invece questa spianata di amache su un ring rialzato da terra con eventi, attività quindi di giorno potevano fare delle lecture, delle lezioni la sera eventi, concerti e via dicendo quindi dall'idea molto molto embrionale siamo riusciti ovviamente a fare uno sforzo progettuale che ha un rischio chiaramente invece a mettere in piedi un progetto che ha proprio una sua economia una sua sostenibilità perché è stato sponsorizzato poi da un'azienda per cui è stato anche capito da un interlocutore privato fondamentalmente quindi questo è un po' per farvi capire molto spesso nascono delle idee fai degli esperimenti e poi se ci lavori un po' su se hai fortuna e se trovi un interlocutore giusto questa cosa può diventare un lavoro anche perché esterni sin dall'inizio così aveva sempre molto ben chiaro che come organizzazione voleva lavorare in questo ambito per cui tutte le persone che lavorano ad esterni fondamentalmente lo fanno full time è proprio il loro lavoro e quindi la sostenibilità economica era una condizione necessaria per esistere questo è un altro di quei messaggi come vi dicevo prima molto semplici perché poi anche lì noi abbiamo in comunicazione abbastanza probabilmente due elementi distintivi uno dei messaggi tendenzialmente molto semplici che sono talmente banali che nessuno li dice più e dall'altra parte anche giochiamo molto spesso con l'ironia ci piace è quello che sappiamo fare e poi ci sono persone molto più brave di noi poi invece a decodificare quello che facciamo a fare convegne a fare ricerche a noi ci piace provare sperimentare e non essere poi tanto invece teorici ma molto più pratici anche se poi nel tempo abbiamo scoperto che avere qualcuno di teorico che da lontano ti guarda ogni tanto ti racconta fa bene per ritrovare ogni tanto poi anche l'identità e la strada questo è un altro progetto embrionalissimo se volete nel senso che anche qui a Milano c'era questo posto incredibile che adesso non esiste più che era sostanzialmente un'area verde rialzata dalle parti di Porta Garibaldi ed era veramente circondata da delle strade ad altissima frequentazione di traffico perché ci sono delle strade molto grandi tutto intorno si chiamava Piazza Freud adesso invece qui sostanzialmente è stato tutto rivisto ci sono degli enormi grattacieli fatto sta che era veramente un'isola nel nulla verde dimenticata da tutti a noi piacciono molto i luoghi dimenticati da tutti e non pensati perché pensiamo che lì ci sia un potenziale di espressione incredibile e quindi abbiamo sfruttato il fatto che c'era un enorme cartellone pubblicitario per una notte l'abbiamo coperto con un telo bianco e ci abbiamo fatto un cinema all'aperto quindi anche qui il progetto che filosoficamente è molto semplice perché d'estate il cinema all'aperto è una delle cose più banali che vengono in mente ma fatto in quel luogo probabilmente aveva un significato così abbiamo fatto questo tipo di esperimenti un po' in tutta Italia partendo veramente negli anni passati anche con pochissime risorse per cui con un set di attrezzatura un furgoncino e si andava nelle piazze laddove c'era un sindaco che aveva voglia di ospitarci e noi chiedevamo sempre dei luoghi o che magari avevano una caratteristica che per esempio la sera erano magari dei luoghi bellissimi ma non frequentati cosa che per esempio a Milano succede tantissimo noi abbiamo un centro storico meraviglioso che di sera è deserto oppure dei luoghi difficili dei luoghi dove altri non vogliono fare dei progetti culturali perché pensano che siano così o un po' troppo street o magari difficili o inaccessibili molto spesso ci sentiamo dire ah ma la gente perché dovrebbe andare lì non va lì perché non ha nessun motivo di andare lì semplicemente non riescono molto spesso a vedere il potenziale il cinema per noi è un linguaggio fondamentale perché è vero che noi parliamo di spazi pubblici ma è vero anche che da 19 anni organizziamo un festival che si chiama Milano Film Festival poco fa io qui dietro ho visto una locandina di un film che è stato proiettato qualche giorno fa che è stato il vincitore dello scorso Milano Film Festival quindi come vedete i legami tutto torna e il Milano Film Festival è un progetto vero e proprio che dura 12 mesi è la produzione più grande che facciamo più impegnativa parla di cinema indipendente per cui ci sono persone che si dedicano ai contenuti in maniera molto professionale ma la sua caratteristica è che si svolge negli spazi pubblici quindi la piazza più grande che abbiamo l'arena più importante che abbiamo è Parco Sempione negli anni scorsi questo progetto si svolgeva nei fossati del castello Sforzesco i fossati del castello Sforzesco sono un posto meraviglioso appunto c'è il castello poi ci sono i fossati tutto intorno 15 anni fa i fondatori di Milano Film Festival e di esterni avevano chiesto al comune delle location gratuite per poter fare il festival di cinema e hanno ovviamente usato dicendo vorremmo il castello e il comune ha detto il castello non ve lo daremo mai se volete ci sono i fossati da ripulire e così è nato Milano Film Festival nei fossati un posto incredibile poi per motivi di sicurezza visto che il progetto è molto cresciuto e gli spettatori sono diventati tantissimi non era più possibile organizzarlo nei fossati però per farvi capire come spesso se hai veramente voglia di fare qualcosa vedi il potenziale dove magari un'istituzione che è molto più tradizionale nell'approccio non lo vede questo per dirvi è sempre Milano Film Festival ed è la piazza al di fuori del teatro Strayler il teatro Strayler è un'altra location fondamentale per il Milano Film Festival perché è uno dei teatri più prestigiosi d'Italia che dal 2000 ci ospita e che in abbinamento agli spazi pubblici è un bel contrappeso perché non è un cinema ma è un teatro quindi un luogo della cultura tradizionale molto prestigioso che dà spazio a opere di giovani filmmaker però nell'immaginario di tutti i partecipanti al festival la piazza che viene chiamata Sagrato è una location a tutti gli effetti perché è uno dei luoghi più vivi di Milano per due settimane per cui noi diciamo sempre che alla fine il festival è sì allo Strayler ma soprattutto è sul Sagrato che è un luogo splendido anche perché normalmente non vedete mai persone che campeggiano nel prato fuori dal teatro durante tutte le altre settimane di programmazione quindi è un'immagine veramente per noi milanesi è molto bella nel senso che considerate sempre appunto che il milanese medio non è esattamente sempre così caloroso e sempre così predisposto a questi momenti di socializzazione almeno fino a qualche anno fa poi adesso secondo me un po' sicuramente i social media poi si vedono talmente tante cose ormai in giro che anche un po' le barriere e i preconcetti sono un po' accaduti però comunque dipende anche molto dalla fascia di età per esempio quindi vabbè queste sono altre immagini per farvi vedere come può avere diverse declinazioni questa invece è un po' la summa di tutto il nostro lavoro sugli spazi pubblici noi lavoriamo appunto dalla fondazione di esterni sugli spazi pubblici con intuizioni con progetti più strutturati con una ricerca che spazia veramente in tutto il mondo noi abbiamo un osservatorio costantemente aggiornato dove raccogliamo tutti i progetti in tempo reale che vengono fatti nel mondo legati agli spazi pubblici siano temporanei o permanenti e questa cosa poi ha permesso anche di creare una rete di persone di progetti che ci piacciono che crediamo simili a noi con cui poi si fanno degli scambi si fanno dei progetti questo anche giusto per farvi vedere è stato durante un salone del mobile perché noi appunto ogni anno dall'inizio quindi dal 95 anzi esterni è nata appunto si chiamava esterni perché era in contrapposizione ad interni la rivista di design che organizzava il fuori salone quindi esterni così anche qui con ironia e con provocazione il suo primo intervento quando doveva decidere che nome darsi ha pensato di darsi come nome esterni un po' appunto perché si giocava su questa contrapposizione e poi perché l'altra intuizione è stata che durante la settimana il design si parlasse di design degli spazi pubblici quindi c'è la stampa di tutto il mondo ci sono buyer da tutto il mondo ci sono i migliori designer che arrivano a Milano per una settimana parliamo anche di design degli spazi pubblici di cui nessuno si stava occupando questo dal 95 i primi interventi sono stati più di carattere legato a degli eventi a delle performance a delle attività a volte anche un po' di così un po' di rottura tra i primissimi eventi si ricordano per esempio delle controfeste pubbliche che si facevano fuori dalle location più patinate e più ufficiali dove allora si entrava solo con invito perché il fuorisalone non aveva una dimensione così pubblica e così aperta come adesso quindi noi portavamo un controevento fuori e le persone erano molto attratte e quindi si creava veramente uno scambio poi di flussi nel tempo invece poi alla provocazione è anche subentrata la voglia di creare contenuto e di dire anche qualcosa di propositivo chiaramente per cui di anno in anno si è iniziato a fare dei progetti pensati su dei luoghi o delle esigenze specifiche o delle tematiche dal 2009 organizziamo durante il Salone del Mobile un vero e proprio festival per cui il Public Design Festival che non solo raccoglie un nostro progetto ogni anno ma ospita da tutto il mondo dei progetti alcuni sono site specific alcuni sono ospitati che durante l'anno appunto noi raccogliamo incontriamo scopriamo ci piacciono noi li portiamo a Milano come appunto punto della situazione vetrina internazionale di quello che nel mondo si sta raccontando sugli spazi pubblici trasversalmente poi ai tipi di intervento lavorare sui spazi pubblici per noi appunto vuol dire anche per esempio mettere a punto una linea di oggetti di arredo urbano nati per l'esterno che possono essere venduti o noleggiati e quindi chiaramente vedete anche qui che c'è sempre una componente poi di sostenibilità perché tutti questi progetti poi devono trovare una forma di esistere per cui in questo caso questo è un altro oggetto per noi molto rappresentativo perché è una panca circolare quindi c'è bisogno di grandi spiegazioni filosofiche quindi dall'idea di creare una panca circolare perché le persone si possono guardare in faccia e non guardare verso un punto indefinito abbiamo poi sviluppato il design e l'ingegnerizzazione di questo oggetto strada facendo noi di solito cerchiamo sempre di realizzare degli oggetti o degli allestimenti che raccontino molto bene il nostro il nostro pensiero e diciamo di di far sì che questi oggetti non siano soltanto allestimenti temporanei per eventi ma che diventino qualcosa di più perché siccome dietro c'è un grande sforzo produttivo si ottimizzano così le energie e si cerca di dare un seguito a tutti questi esperimenti e sforzi poi spazio pubblico vuol dire anche eventi vuol dire anche per noi portare le persone nelle piazze quindi a volte questa cosa è stata un limite perché poi nell'immaginario collettivo o la stampa quella un po' più generalista che non parla poi di design ti ricorda solo come quelli che fanno i grandi eventi senza magari raccontarti tutto il concetto che c'è dietro in questo caso per esempio voi vedete migliaia di persone per uno dei mille eventi conclusivi della design week di Milano ma dove noi ogni anno andiamo a lavorare su un luogo che abbia un senso in questo caso era una piazza piazza 24 maggio centrale di grandissimo passaggio assolutamente non progettata da nessuno per cui era una piazza veramente abbandonata a se stessa dove c'erano molte potenzialità perché per esempio c'era un mercato coperto di altissima qualità che è l'unico a Milano che ha prodotti che arrivano da ogni parte del mondo perché accontenta un po' le varie comunità presenti a Milano ci sembrava già quello un primo bacino di interesse quindi abbiamo lavorato con il mercato un po' per aiutarli nella loro comunicazione per renderlo un po' più appetibile anche al milanese diciamo e ci siamo inventati proprio l'aperitivo dentro a questo mercato con le persone che potevano andare in giro per i vari commercianti e comprarsi la verdura il panino quello di cui avevano bisogno per poi fare l'aperitivo nella piazza e poi sostanzialmente abbiamo lavorato proprio su un ridisegno una valorizzazione anche una pulizia della piazza per restituirla poi ai turisti ai milanesi a chiunque questi sono tutti i sforzi che ci carichiamo noi come organizzatori chiaramente anche perché di solito questo tipo di progetti è difficile che trovino sostegno da parte delle amministrazioni pubbliche dipende alcune volte sì alcune volte meno sicuramente i primi esperimenti sono stati fatti perché c'era un'organizzazione che aveva voglia di farlo e poi mostrare i risultati dopo a scatola chiusa è sempre molto difficile purtroppo trovare così chi crede in questo tipo di progetti la difficoltà e la competenza che abbiamo sviluppato è stata quella di tradurre tutte le nostre idee i nostri progetti in sostanzialmente informati adattabili alle normative alle burocrazie quindi quello è un ulteriore passaggio che spesso riusciamo anche anche qui ad offrire ad altre organizzazioni perché siamo diventati molto bravi nell'organizzare cose abbastanza difficili negli spazi pubblici questo appunto sempre legato al design pubblico perché c'è sempre una componente anche attiva nei nostri progetti quindi da una parte c'è qualcosa un punto della situazione da mostrare da una parte c'è sicuramente un evento partecipativo dall'altra si cerca sempre di far sì che le persone facciano delle cose in questo caso fanno proprio un workshop di costruzione quindi è la cosa più materica che c'è in assoluto altre volte invece fanno delle attività più relazionali però sicuramente cerchiamo sempre di rendere i nostri partecipanti attivi un po' perché forse è un'esperienza un po' più memorabile per chi ci partecipa un po' perché così ci piace anche creare uno scambio far sì che le persone che arrivino riescano a darti anche qualcosa di loro fondamentalmente è un format anche qui un po' più complicato sicuramente che non inventarsi solo una grande festa però di solito dà tantissime soddisfazioni in questo caso noi eravamo su un cavalcavia per l'intera settimana e c'erano persone che venivano lì e avevano dei designer dei falignami proprio che li aiutavano a costruire i propri oggetti ovviamente lì il messaggio di base era il fatto che durante la settimana nel salone immobile in realtà non è necessario andare a cercare necessariamente il grandissimo design il design può essere molto alla portata anche di cioè bisogna avere delle idee di base però appunto le persone hanno tantissima voglia di fare poi e questa cosa è stata poi declinata per esempio in workshop per diverse università perché spesso lamentavano il fatto che nella loro preparazione non ci fosse poi mai dei momenti veramente pratici tant'è che per esempio lo IED Design di Milano da quest'anno ha reso proprio noi sono tre anni che facciamo un percorso pratico con gli studenti di design e loro ormai l'hanno reso proprio obbligatorio che questi studenti nell'arco del loro triennio facciano un'esperienza di costruzione pratica anche perché poi entra in contatto per esempio con tutto il mondo degli artigiani con cui noi lavoriamo che è un altro mondo meraviglioso che è bello trasmettere poi ai giovani studenti questo è un'altra accezione per noi di spazio pubblico perché è legata ai servizi un tema che a noi è molto caro è quello dell'ospitalità perché Milano ha dei problemi enormi legati all'ospitalità soprattutto se pensiamo all'ospitalità abbordabile a quella democratica soggiornare a Milano per una persona normale è veramente complicato perché gli alberghi costano tutti tantissimo soprattutto durante i grandi eventi salone del mobile settimane la moda e via grandi fiere e via dicendo proprio quando magari c'è bisogno di portare gente giovane gente sveglia gente con delle idee in città quindi noi nel nostro piccolo negli anni abbiamo sviluppato diversi progetti di ospitalità e anche qui dall'inizio abbiamo sempre cercato però di metterli a punto con un pensiero che li rendessero un po' di piccoli format capire come si potevano standardizzare per replicarli in altri ambiti e per non perdere ogni volta poi il know-how acquisito nei primi esperimenti abbiamo costruito le case dei designer per cui noi prendevamo dei luoghi abbandonati dei luoghi sfitti dei luoghi che normalmente erano destinati a tutt'altro li trasformavamo ospitavamo a seconda dello spazio un centinaio di posti letto potevamo mettere quindi col turnover potevamo andare ad ospitare 200-300 persone nell'arco di una settimana e queste persone sia trovavano ospitalità ad un prezzo molto conveniente perché fondamentalmente pagavano magari 15 euro per un letto ma soprattutto era un luogo dove noi cercavamo poi di spingere le relazioni a seconda delle potenzialità dello spazio poteva essere un luogo dove i stessi ospiti potevano magari esporre i propri lavori o comunque avere degli eventi di punta questo progetto l'abbiamo fatto in gallerie d'arte come per esempio dentro al Politecnico di Milano che ci ha messo a disposizione gli spazi dell'Aula Magna e noi l'abbiamo completamente trasformata con un ponteggio siamo andati in verticale e abbiamo creato veramente un castelletto dentro all'Aula Magna del Politecnico poi queste cose creano ovviamente poi anche connessione con chi ti sta intorno quando abbiamo lavorato col Politecnico chiaramente gli studenti erano molto protagonisti quando abbiamo lavorato in Lambrate appena prima che appunto che poi il distretto Lambrate prendesse proprio la stessa forma che è adesso che è uno dei distretti più interessanti per il design chiaramente abbiamo lavorato con un quartiere che si stava formando in quegli anni quindi c'era degli spazi ancora sfitti industriali c'erano delle gallerie d'arte che stavano arrivando c'erano delle case editrici insomma si cerca sempre di fare il punto della situazione di quello che c'è in un quartiere e si cerca un po' di mettere insieme tutte le sinergie possibili tra i vari progetti di ospitalità a un certo punto abbiamo deciso di fare una cosa ancora più estrema e di fare un campeggio urbano a Milano che però fosse un campeggio con non solo per ospitare delle tende ma che avesse anche dei benefit coerenti con la nostra filosofia abbiamo scelto un posto anche qui strategico per i designer nel senso che era nel pieno quartiere Lambrate che era già appunto molto sviluppato però abbiamo scelto sostanzialmente questo enorme spazio che è sotto il cavalcavia della tangenziale che è un luogo molto surreale perché da una parte ha un enorme spazio abbandonato che è la Ex Innocenti che è un'area di smessa molto grande dall'altra parte invece hanno appena edificato dei palazzi per cui ci sono dei palazzi nuovi con dei residenti in parte abitato in parte no un giardinetto di quelli super nuovi quindi tutto molto preciso quindi la tangenziale è sopra di te anche se in realtà non si sente perché i rumori sono attutiti e in quella settimana in più un sacco di turisti un sacco di curiosi perché era perché è uno dei distretti più importanti e più internazionali per il salone del mobile qui abbiamo fatto un campeggio quindi abbiamo disegnato sia l'area proprio dove dovevano ospitare le tende sia abbiamo progettato poi tutti gli spazi dove le persone potevano incontrarsi e siccome l'area era molto grande anche tutto un calendario di eventi notturni per gli ospiti ma anche poi per i curiosi quindi la cosa era veramente surreale e era molto poco milanese come esperimento inutile dirvi che la maggior parte dei visitatori erano stranieri che hanno un po' meno di esigenze da questo punto di vista degli italiani però anche gli italiani più avventurieri ci sono stati ovviamente poi noi quando facciamo questo tipo di interventi lavoriamo anche per i servizi di base non solo per gli eventi e le zone relax quindi abbiamo anche la necessità di portare dei bagni attrezzati l'acqua calda tutto quello che una persona normale desidera quando pensa di essere ospitato quindi in questo caso poi tra l'altro pagavano semplicemente la piazzola quindi il costo per chi arrivava era veramente ridicolo e tutte insieme andavano a ripagare gli sforzi produttivi di base di aver allestito quest'area in realtà chi ha partecipato a questo esperimento sentiva di essere veramente parte di un progetto perché questo spazio senza gli ospiti non avrebbe avuto nessun significato quindi era un concept molto più ampio per cui anche gli ospiti avevano delle pretese molto basse perché gli piaceva essere parte di questa cosa molto particolare però messo a punto tutte queste competenze questi standard questi progetti sono rivendibili in altre città o per altri grandi eventi perché la necessità comunque è ciclica cioè quando arrivano tante persone per pochi giorni e mediamente non hanno una capacità di spesa molto elevata adesso è molto diffuso Airbnb però è una formula di ospitalità diffusa comunque che parcellizza molto le presenze questi sono esperimenti molto belli e che pagano anche in termini relazionali per un organizzatore di eventi chiaramente questo invece è un altro esperimento anzi è un altro progetto che ha avuto un ritorno mediatico pazzesco che non ha a che fare tanto col design ma più con la filosofia ovviamente di esterni nel senso che noi per diversi anni abbiamo invitato una volta all'anno le persone per un weekend a scioperare dalla televisione per andare poi a vivere gli spazi pubblici o gli spazi della cultura delle proprie città quindi da una parte abbiamo creato una rete di convenzioni a livello nazionale per cui presentando il tuo telecomando entravi gratis nei musei nei cinema nei ristoranti agli eventi ai concerti quindi dai musei civici ai musei vaticani di tutto gli uffizi c'era dentro di tutto poi le persone quando fanno queste cose si esaltano anche e quindi ogni tanto capitava che qualcuno si presentasse addirittura con la televisione intera dicendo ma se io porto la televisione invece del telecomando oltre ad entrare gratis cosa succede? succede che di solito ti fotografano e finisci sui giornali e poi noi insieme ad altri partner cercavamo di organizzare invece dei veri eventi negli spazi pubblici appunto per creare anche occasioni di incontro per cui da una parte tu puoi rinunciare alla televisione per andare a usufruire della cultura dall'altra puoi anche usufruire della tua città e quindi abbiamo anche qui cercato sempre di volta in volta dei luoghi particolari perché poi è un po' la nostra cifra però questo è un progetto che mediaticamente ha pagato tantissimo il New York Times ci ha intervistato un po' perché pensava che fosse una sorta di polemica contro così lo stato politico italiano allora in carica e invece non era così perché era un progetto nato ancora prima in realtà ovviamente questo tipo di progetto non può avere nessuna sponsorizzazione perché quando tu dici che fai lo sciopero della tv qualsiasi azienda che minimamente investe in spot pubblicitari ti dice che non ti sosterrà mai quindi è un lavoro molto forte di relazioni che tu crei all'inizio per creare questa rete di convenzioni di partnership e che poi cerchi di capitalizzare gli anni dopo sicuramente l'abbiamo fatto più per i riscontri che abbiamo avuto in termini di comunicazione che non per la sostenibilità economica e questo per esempio è una delle location dove abbiamo fatto uno di questi raduni degli scioperanti della tv per cui anche qui location molto urbane molto street qui c'era un lago artificiale e anche qui in realtà se lo sistemi bastano veramente poche luci e una musica e porti la città a scoprire un posto che neanche riuscivano a raggiungere i taxisti perché sulla mappa non era ben centrato cioè la soddisfazione è anche quella veramente di prendere le persone e portarle fuori casa e dirgli guarda che la tua città non è solo quelle quattro vie intorno a casa tua questo è un progetto invece molto più strutturato che anche qui è un po' la somma di tanti interventi molto guerrigliosi che noi abbiamo fatto che però messi tutti in ordine hanno trovato invece questa volta un finanziamento per crescere svilupparsi e fare un progetto appunto che ha dato molte soddisfazioni si chiama Alla Riscossa è un progetto che abbiamo fatto per tre anni di fila sostanzialmente l'abbiamo fatto innanzitutto in collaborazione con il FAI che è il Fondo Ambiente Italiano con cui condividiamo molto la mission perché loro si occupano anche loro di patrimonio e di beni artistici culturali chiaramente abbiamo magari due stili un po' diversi per cui l'unione tra i due soggetti era già molto curiosa e poi sostanzialmente abbiamo inventato un gioco a squadre che si svolgeva in contemporanea in più città d'Italia declinato chiaramente per ogni città dove le persone non tanto dovevano fare una caccia al tesoro ma di tappa in tappa dovevano fare delle cose che li rimettessero un po' in contatto o con dei posti della città che non frequentavano oppure con delle tradizioni o delle conoscenze che neanche loro avevano perché poi siamo andati a lavorare appunto con il FAI su appunto il substrato culturale poi delle città in più hanno fatto delle esperienze uniche perché grazie a questo gioco per quelle per quelle 24 ore di gioco sostanzialmente avevano accesso a dei luoghi molto suggestivi quindi facendo delle cose che chi ha partecipato se le ricorda ancora in questo caso siamo a Perugia tra le prove questa invece è una prova un po' più relazionale quindi in questa gradinata di Perugia le squadre a una certa ora dovevano organizzare un picnic con un elenco di oggetti minimi che ci dovevano essere e poi tutti insieme avrebbero consumato il pazzo quindi abbattimento dell'agonismo immediato perché hai un'ora te la devi solo ti devi solo rilassare divertire perché lo scopo poi in realtà non è tanto l'agonismo anche se poi c'erano delle persone cattivissime e agguerritissime però gli interventi in realtà sono anche un po' più curiosi questo è Milano Piazza Duomo abbiamo chiesto a tutti quanti di ricostruire sostanzialmente la scena finale di Miracola Milano quindi loro dovevano documentarsi capire qual era la scena finale di questo film armarsi di una scopa e poi recarsi in Piazza Duomo e tutti insieme ovviamente qui la massa critica fa anche immagine hanno ricostruito questa scena finale queste sono cose che ti rimettono molto in contatto con la tua città questa invece all'alba quindi alle 5.40 del mattino in ogni città coinvolta ci si recava davanti alla stazione quindi in questo caso è Milano e a ogni squadra chiedevamo di portare un violinista questi durante la notte dovevano cercarsi un violinista da qualche parte e poi noi all'alba eravamo lì attrezzati con degli spartiti e altri componenti e sostanzialmente tutti i violinisti che sono stati raggruppati durante la notte dovevano suonare il Nessun Dorma mentre i partecipanti iscritti dovevano intonarne il coro questa cosa è una cosa appunto anche qui sono quelle piccole esperienze che ti rimangono per tutta la vita perché la piazza davanti alla stazione centrale che è quella che vi ho fatto vedere prima è un posto dove di solito i milanesi alle 5.40 del mattino non ci andrebbero neanche pagati quindi sono queste cose di nuovo con l'ironia con la voglia di giocare senza essere troppo pedanti dove in realtà le persone poi si fanno molto coinvolgere e la partecipazione a questo gioco è stata incredibile sia nelle grandi città come Milano e Roma sia nelle piccole io ho visto a Perugia direttamente che è una piccola città dove pensi anche che tutti conoscano ogni centimetro del territorio dove c'è stata una partecipazione incredibile e dove anche lì c'era modo di stupirli o perché aprivi il loro teatro alle 4 del pomeriggio gli davi l'occasione di salire sul palco e di essere parte di uno spettacolo o perché veramente li portavi magari a riscoprire delle tradizioni che non necessariamente si andavano a perdere la notte dei tempi magari erano legati a un vecchio oste che è lì da 80 anni quindi li rimetti veramente in sintonia hanno tutti un senso di divertimento di pace qui vedete sempre i violinisti che intonano insomma sono cose molto divertenti queste le persone sono tutte felici quindi è abbastanza quindi questa è una panoramica per farvi vedere appunto tante cose soprattutto come nascono tutto quello che avete visto oggi fondamentalmente nasce per tante piccole intuizioni idee voglie di fare delle cose e poi mano a mano quando trovi chiaramente il partner il il sostegno economico o di un'azienda sviluppi dei progetti però la maggior parte dei progetti quelli più strutturati che abbiamo in realtà nascono da idee prototipali anche abbastanza buffe questa è una carrellata di quello che siamo oggi perché oggi siamo molto più strutturati chiaramente Sterni è nata nel 95 ed erano in 5 ragazzi ventenni che aggregavano intorno a sé amici e amici di amici a livello ovviamente volontaristico nel 2000 c'è stato un primo passaggio perché queste persone hanno deciso comunque di darsi una sede e di dedicare un po' di tempo della loro vita a provare a capire se poteva essere un lavoro quindi full time dove potersi mantenere fondamentalmente e hanno iniziato invece ad attornarsi di persone che andavano poi remunerate quindi è stato un po' lo scarto quel momento lì ad oggi non siamo una realtà molto grande in realtà siamo 15 persone che lavorano full time su tutti i progetti però intorno a noi poi ci sono tantissimi collaboratori o comunque persone con cui lavoriamo con una certa frequenza che possono essere di estrazione più diversa quindi lavoriamo con gli artigiani lavoriamo con gli architetti con gli ingegneri lavoriamo con chi si occupa appunto di ricerca cinematografica o musicale ci piace veramente mischiare tutti questi mondi quindi a volte poi ci sono anche delle riunioni molto divertenti quando metti insieme le persone più cerebrali con le persone più artistiche ed è lì che vengono poi fuori dei progetti molto ricchi infatti un'altra cosa abbastanza frequente almeno per noi è anche l'incapacità di definirci molto bene perché siccome sfuggiamo a tante etichette non siamo solo organizzatori di festival non siamo solo architetti che sistemano le piazze lavoriamo nel cinema come nella musica come nel design che cosa siamo? questa è una cosa che da una parte è vero che è difficile definirsi dall'altra per ora ci ha sempre permesso di crescere di sostenerci appunto perché non ci siamo mai incanalati in una definizione troppo stretta e la varietà che vi ho fatto vedere prima in realtà è quella che poi noi ci dà sostentamento perché ogni cosa ci permette di guadagnare visibilità pubblico o denaro da poter investire nell'attività seguente e quindi per noi è stata quella un po' una fonte di successo però appunto come vi dicevo all'inizio questa è un'esperienza magari invece ci sono delle realtà eccellenti nel fare una cosa e vanno avanti poi su un binario molto più preciso però per farvi vedere appunto adesso è abbastanza più strutturata la nostra organizzazione non che non facciamo più quelle cose però le facciamo con un po' più di metodo abbiamo innanzitutto un po' riorganizzato tutte le cose che facciamo sostanzialmente in cinque ambiti questi cinque ambiti non servono tanto a noi per seguire una linea progettuale perché esattamente come prima continuiamo a passare da un progetto all'altro seguendo passioni interessi opportunità di crescita o dove vediamo che ci sia anche un'opportunità di sostentamento ci serve più che altro per poter incanalare diciamo le opportunità di ricerca di nuovi progetti o comunque di collaborazioni rispetto al mondo esterno un po' per farci capire da chi è fuori è un'idea molto frammentata di noi così andando un po' a incasellare le cose che facciamo riusciamo a guidarli nel comprenderci meglio quindi in più c'è stato un lavoro che abbiamo fatto un po' strategico a monte sostanzialmente abbiamo preso abbiamo fatto un po' l'analisi di tutte le competenze che abbiamo internamente che abbiamo sviluppato in questi anni e che arricchiamo e abbiamo capito che queste stesse competenze fondamentalmente possono sia servire tutte insieme per fare un grande progetto di piazza molto organizzato sia invece ognuna di queste può dare vita magari a dei singoli progetti molto molto più specifici come può essere per esempio la produzione di una linea di arredo di design quindi hai un designer fondamentalmente che progetta con questa filosofia e gli chiedi di sviluppare maggiormente questa linea che è molto molto specifica senza dover coinvolgere l'intera struttura che si sta occupando anche di progetti molto più complessi come può essere un Milano Film Festival che invece le mette tutte insieme queste competenze quindi sostanzialmente noi abbiamo declinato il lavoro così negli spazi pubblici appunto in spazi per cui valorizzazione di spazi che può essere temporanea o permanente quindi si può andare da fare un progetto di riallestimento di due mesi di una piazza a un progetto molto più complicato come è stata la riqualificazione di Cascina Cuccagna a Milano che è una cascina invece che era completamente inagibile e su cui c'è stato fatto tutto un lavoro per renderla per restituirla alla cittadinanza adesso è aperta da tre anni ufficialmente ma in realtà abbiamo sempre cercato di tenerla comunque aperta al pubblico nonostante la fase di cantiere e quello è un lavoro invece permanente perché la cascina c'è dal 1600 e speriamo ci sia ancora per molto più tempo poi c'è un lavoro ovviamente di comunicazione perché noi abbiamo sempre seguito direttamente la comunicazione nei nostri progetti però allo stesso tempo abbiamo anche un po' imbrigliato nei nostri canoni di comunicazione le aziende o le istituzioni che volevano fare dei progetti con noi parlo di sponsor per esempio a cui abbiamo sempre chiesto di partecipare ai nostri progetti sì dandoci delle risorse però accettando anche di fidarsi del nostro modo di comunicare negli spazi pubblici perché se tu fai un bel progetto però poi comunque hai una presenza massiva e non rispettosa poi di quello che stai facendo di un partner vai anche un po' a sviluppare tutto lo sforzo che hai fatto quindi il lavoro è stato quello di uso una parola un po' pretenziosa di insegnare tra virgolette a certe aziende anche l'opportunità di comunicare negli spazi pubblici in modo più intelligente molto più rivolto a creare valore servizi alle persone con cui entri in contatto che non semplicemente alla foga di mettere il cartello più grosso che si può quindi cercare di spingerli verso una comunicazione che noi chiamiamo un po' funzionale cioè fai sì che ogni tuo sforzo in comunicazione serva a qualcosa non trattare la persona che è davanti solo come un soggetto che deve per forza stare con l'orecchia aperta da sentire il tuo messaggio e magari non ne ha nessuna voglia e quindi questa cosa in realtà all'inizio è stato uno sforzo incredibile mano a mano alcune aziende hanno capito invece questo valore anche qui adesso sono un po' più abituate anche perché se ci fate caso per esempio su internet o sui social tutte le aziende che comunicano hanno capito che se comunichi devi comunicare anche un contenuto perché se no le persone sono talmente bersagliate che non hanno tutta questa voglia di starti ad ascoltare e la stessa cosa noi la decliniamo negli spazi pubblici se sei in uno spazio pubblico fai qualcosa di utile e quindi questa cosa appunto può dar vita a dei progetti che poi non hanno una parte finale concreta in una piazza ma che magari rimangono solo nell'ambito della comunicazione per esempio poi servizi come vi ho detto prima per esempio l'ospitalità è un servizio che abbiamo sviluppato ma ne abbiamo anche sviluppati altro comunque a volte iniziamo a ragionare su alcuni temi alcune necessità e quindi sono progetti un po' più complessi che non hanno solo a che fare con l'architettura di uno spazio ma proprio su tutto il processo e su come mettere insieme tutte le componenti gli eventi che sono poi la cosa con cui abbiamo cominciato un po' per necessità perché un evento è temporaneo ha una durata di solito ha una grossa partecipazione di pubblico che ti permette anche di sostenere poi l'evento e poi è anche una delle cose per cui all'inizio eravamo maggiormente famosi e ovviamente anche qui capito come si possono fare delle cose anche particolari anche complesse negli spazi pubblici abbiamo iniziato a lavorare anche in altre città per esempio abbiamo sviluppato un format questo per l'Europa fondamentalmente dove di volta in volta viene declinato rispetto al luogo preciso dove andiamo a lavorare però di base ci viene segnalato da un'istituzione da una fondazione da chi che sia un luogo con delle problematiche di diverso tipo noi ci richiamo in un luogo e iniziamo ad analizzare tutto quello che c'è nel contesto per cui come dicevo prima se ci sono delle realtà culturali tutto quello che può essere un potenziale e iniziamo a prendere contatti con tutte queste realtà e poi c'è una parte invece molto fisica molto pratica dove sostanzialmente noi cerchiamo di individuare tutti quegli attori disposti a costruire con noi o a ricostruire o a rivalorizzare questo spazio dove andiamo a lavorare e materialmente lo andiamo proprio a costruire con tecniche di design temporaneo leggere economiche lavoriamo tantissimo con il legno perché poi è la cosa più flessibile che c'è e ci permette anche di lavorare anche molto di fantasia chiaramente e quindi di volta in volta invece l'output può essere molto diverso abbiamo lavorato per esempio a Madrid in un vuoto urbano molto grosso che era sostanzialmente una discarica a cielo aperto e lì siamo andati porta a porta rispetto a tutti gli abitanti che poi insistevano su questo luogo che probabilmente hanno anche contribuito a renderlo una discarica a cielo aperto dicendo voi siete disposti a fare questa cosa con noi però noi tra due settimane ce ne andiamo quindi chi partecipa a questa cosa poi sarà anche quello che si fa un po' carico di portarla avanti quindi in quel caso era un progetto molto orientato alla cittadinanza e così l'abbiamo veramente all'inizio un po' disegnato tutti insieme e poi con un workshop molto pratico tantissimi artigiani che abbiamo portato dall'Italia e poi le persone sul territorio fondamentalmente abbiamo bonificato costruito pulito iniziato a fare i primi eventi e poi lasciato la cittadinanza che ha costituito un'associazione per portarlo avanti diversamente invece per esempio a Vienna ci ha chiamato invece lì l'istituzione pubblica il comune che voleva pedonalizzare una strada e come a volte succede aveva paura dei timori dei commercianti insomma se pedonalizzo allora il commercio verrà penalizzato e via dicendo allora lì ci siamo inventati temporaneamente per qualche mese per far passare il concetto invece che la via pedonalizzata non necessariamente rappresentava un ostacolo per il commercio ma poteva comunque attirare altre persone sostanzialmente il cammino è diventato una sorta di passerella e di un workshop ce l'ho aperto per cui anche lì portando delle maestranze degli artigiani dei designer e tanta materia prima chi passava in alcuni momenti più strutturato quindi con dei workshop per esempio con le scuole in altri momenti invece più aperto alla cittadinanza però chi passava poteva progettare un pezzettino a seconda della voglia della disponibilità della fantasia che poteva avere per cui anche chi non aveva nessuna consapevolezza o comunque conoscenza tecnica poteva dire a me piacerebbe tantissimo che a un certo punto ci fosse uno scivolo a me piacerebbe tantissimo non lo so qualcosa di morbido insomma fantasia e quindi ognuno ha fatto un po' un segmento ed era diventata un enorme panca rialzata passerella insomma seconda poi delle funzioni dove ognuno poi sentiva che c'era un po' di suo e in più questa cosa poi nei giorni ha iniziato ad attivare un passaparola e a portare persone quindi abbiamo dimostrato ai commercianti che questa cosa non aveva assolutamente penalizzato questo format l'abbiamo veramente replicato in tantissime città l'ultimo l'abbiamo fatto l'estate scorsa in Repubblica Ceca a Cosice in un luogo abbastanza hardcore perché era anche lì sotto il ponte di una tangenziale che univa la città vecchia a un enorme campo rom quindi un luogo abbastanza difficile noi lì sostanzialmente abbiamo creato un enorme skate park che potesse essere un punto di incontro per tutti i ragazzini della città indipendentemente da quale parte provenissero e così è stato un po' perché già durante la fase di costruzione la costruzione di questa struttura è durata un paio di settimane quindi già attirava i curiosi i curiosi sono stati coinvolti immediatamente cioè trascinati dentro e quindi hanno già iniziato anche loro a far fatica a sporcarsi le mani e a sentire molto proprio il progetto quindi è stato fatto un lavoro veramente con i ragazzini in quel caso e quello ancora oggi è un luogo dei ragazzini e non importa veramente se siano della città o della periferia quindi per dirvi il progetto finale cambia però il modus operandi è quello una volta che l'abbiamo testato e messo a punto sappiamo anche con che tempi possiamo attivarlo e quindi quando per esempio veniamo chiamati da una città possiamo anche fargli una stima di tempi e di budget senza che noi andiamo a rischiare di perderci denaro o tempo o senza che loro poi non sappiano dove vanno a finire quindi la capacità ogni tanto di fermarsi analizzare e schedulare un po' tutto quello che fai ti permette di replicarlo e poi infine quello che noi chiamiamo formazione fondamentalmente cioè appunto da una parte l'analisi di tutto quello che sappiamo fare abbiamo cercato di trasferirlo da una parte con le scuole come vi dicevo prima soprattutto su due filoni uno quello che vi dicevo il design nella sua componente più pratica nonché anche tutte le riflessioni sul design degli spazi pubblici perché comunque non sempre viene trattato da un'altra parte invece si lavora sulla comunicazione e diciamo l'economia di questo tipo di progetti che sono un po' borderline per cui sono un po' a cavallo tra tante discipline e quindi non ci sono magari dei modelli già fissati quindi lavoriamo sia con gli studenti di diverse scuole sia invece a volte con altre organizzazioni oppure con delle aziende che hanno bisogno ogni tanto di avere una panoramica su tutto quanto ci può essere di nuovo di così di non convenzionale per usare un po' il termine del marketing ci sia in giro e quindi noi facciamo un po' tesoro di tutte le ricerche che noi facciamo per il nostro lavoro e le offriamo fondamentalmente a un mercato tutto questo permette a esterni di stare in piedi fondamentalmente per quello vi dicevo prima una varietà nei progetti ma anche una varietà nell'offerta sostanzialmente di quello che sappiamo fare adesso vi faccio vedere ah no e poi un elemento fondamentale mi stavo dimenticando che è quello della community nel senso che dall'inizio esterni ha sempre cercato di entrare in contatto con tutte le persone che partecipavano agli eventi erano curiose e via dicendo per cui sicuramente dal 95 c'è stato anche ovviamente un lavoro proprio di raccolta contatti email e ha creato un database importante in Italia e all'estero per cui ogni evento andava ad alimentare poi questo questo database e poi ovviamente adesso con tutti i vari profili social la cosa importante in realtà è che questa community ha tante anime perché da una parte sono i primi a cui vengono comunicate le tue iniziative quello che fai quindi abbastanza tradizionale come approccio dall'altra parte essa stessa è composta da persone molto spesso che fanno dei lavori simili o in parte tangenti ai nostri per cui a volte dentro a questa community in realtà ci sono designer registi persone delle istituzioni pubbliche quindi non solo possibili spettatori ma anche possibili attori dei nostri progetti quindi non abbiamo tanto una differenziazione diciamo per usare un po' i termini del marketing classico in business e in consumer ma sono sostanzialmente un bacino di persone interessate alle tematiche che noi trattiamo a cui noi comunichiamo con una certa frequenza attraverso una newsletter il sito i social il tumblr che poi è il luogo virtuale dove noi esponiamo tutta la ricerca per esempio sugli spazi pubblici e con cui ci sono degli scambi veramente di diverso tipo cioè una volta queste persone possono venire a fare da pubblico una volta possono essere quelli che poi ti commissionano un lavoro la volta dopo possono essere i partner con cui fai qualcosa e quindi da qui deriva anche una comunicazione che appunto anche qui non è proprio la classica canonica di solito le organizzazioni fanno una comunicazione molto diretta per tutti quelli che possono essere i canali appunto di sviluppo del proprio lavoro e poi una comunicazione un po' più fantasiosa un po' più allegra cattivante per il pubblico invece noi abbiamo deciso di mixare le cose per cui di parlare a tutti indistintamente come fondamentalmente un grande un grande numero di persone con cui condividiamo interessi avere una comunicazione mai troppo altisonante mai pubblicitaria con cui appunto cerchiamo un dialogo tant'è che la newsletter negli ultimi anni è diventato non tanto un luogo di aggiornamento sulle attività anche per quello ormai ci sono molti social ma è diventato più che altro uno strumento diciamo settimanale o bisettimanale dove noi raccontiamo delle cose che può essere una volta un punto di vista in un editoriale oppure mettiamo il focus su alcune cose che stanno accadendo in Italia o all'estero e da lì è una sorta di piccolo magazine se vogliamo oppure segnaliamo altre cose eventi attività realtà che ci piacciono per farle conoscere quindi diventa più che altro uno strumento di interesse per le persone che la leggono non tanto uno strumento di informazione su eventi con un calendario imminente questo perché appunto abbiamo visto che in questo modo tra l'altro si alimentava molto di più il dialogo per cui molte persone poi ti rispondono ti scrivono ti mandano le mail alcune commentano le cose che fai altre ti parlano dei loro progetti altre ti dicono semplicemente ti bussano alla porta e ti dicono semplicemente che vogliono conoscerti tutto fa sì che però ci si arricchisca e si cresca fondamentalmente e quindi anche questa è una scelta assolutamente personale che abbiamo fatto questo è giusto per farvi vedere una carlata di progetti attuali per farvi vedere rispetto a prima che magari alcune forme sono un po' cambiate quindi Milano Film Festival come vi dicevo prima sicuramente nei primi esperimenti nei fossati è diventata una produzione molto più impegnativa molto più strutturata dove però è vero che abbiamo fatto un lavoro dedicato al cinema molto importante per entrare in un network di festival internazionali di un certo tipo però la capacità di lavorare negli spazi pubblici per noi è imprescindibile e infatti anche quando abbiamo dei grandi ospiti questi arrivano non hanno molto presente esattamente come ha fatto il nostro festival si immaginano il solito tappeto rosso un po' di cliché che ci sono in ogni festival e poi in realtà rimangono devo dire quasi tutti piacevolmente sorpresi perché hanno un ambiente completamente diverso per cui tu vai al bar e di fianco a te puoi incontrare che si mangia il panino il regista che per te è un mito è capitato veramente delle scene apocalittiche quando abbiamo ospitato per esempio Terry Gilliam che è una delle persone più credibili e fantasiose da questo punto di vista che era veramente a contatto con le persone per cui te lo beccavi lì che si stava facendo la birretta con qualcuno che andava lì e gli bussava diciamo posso parlarti o ti disturbo queste cose nei festival più blasonati non accadono magari là c'è più glamour per carità è una scelta questa di voler essere avere un approccio molto più diretto molto più a contatto con le persone anche se magari i festival più tradizionali non ti capiscono perché esci da uno schema e poi lo sforzo anche produttivo che facciamo è quello appunto per riallestire gli spazi che andiamo ad occupare che a volte non era neanche necessario se abbiamo un bellissimo teatro non è detto che dobbiamo per forza rivoluzionarlo e invece noi anche se abbiamo un bellissimo teatro vogliamo comunque allestire quegli spazi perché parlano di noi e così non solo portano avanti il progetto Milano Film Festival ma anche questo tipo di eventi servono per raffermare sempre l'immagine degli esterni che poi è la realtà che lo produce però sicuramente come immagine in questo caso la struttura era molto impegnativa il mezzo a Parco Sempione non è sicuramente paragonabile alle immagini dell'inizio perché vedete appunto che ci sono molti più sforzi dall'altra parte però invece se vedete bene la foto c'è sempre questa cosa che noi vogliamo comunque stare a contatto con il maggior numero di persone possibili non creare così delle zone riservate dei privè ma creare una grande festa per la città questo anche sono un po' di immagini che arrivano a diversi Public Design Festival come vi dicevo prima quindi progetti site specific e per esempio dal Public Design Festival sono nati tante occasioni di sviluppo del nostro lavoro perché come vi dicevo per noi è una grande vetrina e da lì poi nascono magari delle occasioni perché veniamo chiamati per realizzare dei piccoli progetti o dei grandi progetti in questo caso abbiamo realizzato per esempio questa enorme panca a Borgo Manero che è in provincia di Novara perché hanno notato i nostri arredi e da lì ci hanno chiesto di svilupparne uno su misura per cui un nuovo progetto non abbiamo utilizzato nulla di quello che avevamo già progettato prototipato però un'occasione nuova di lavoro e di espansione in un'altra città queste sono un po' di immagini di quello che vi dicevo prima di Madrid quindi vedete lo stato dell'arte quando siamo arrivati in questo vuoto urbano e qui vedete veramente il lavoro fisico nel senso che noi siamo un gruppo abbastanza anche qui un po' fuori dagli schemi perché poi c'è sì una parte magari di progetto una parte di lavoro che fai anche in ufficio e poi a un certo punto prendi vai e fai quello che devi fare e la cosa divertente è che abbiamo un po' imparato tutti sia nel lavoro più intellettuale che nel lavoro un po' più pratico così non dico che siamo bravi tutti in tutto assolutamente no però sicuramente a capire le esigenze di tutti a incastrare ad avere una mentalità che tiene conto di tanti aspetti sì perché quando tutti sono a conoscenza veramente di tutte le fasi progettuali poi ognuno nel suo lavoro ne fa tesoro quindi queste sono un po' invece di immagini successive qui sempre quindi eventi notturni l'orto tutto quello che abbiamo fatto e questo è il risultato perché Efesuna Plaza che era il nome del progetto appunto in spagnolo è diventato un'associazione un blog che porta avanti la cosa ed è uno dei progetti più così più vecchi da questo punto di vista che abbiamo fatto ma uno dei progetti più longevi si sta sviluppando ospitano costantemente altri designer artisti quindi vuol dire che di base insomma l'input è stato raccolto questo è un altro progetto molto bello che formatizzarlo è difficile però fa parte anche qui di un approccio sempre legato a cos'è un'opportunità e cos'è un disagio i cantieri sono normalmente una fonte di disagio per chi li subisce direttamente o in generale sono spesso anche malvisti noi abbiamo pensato che i cantieri comunque ci sono perché dipende da scelte che comunque sono sopra un po' la testa di tutti e fondamentalmente a volte tra l'altro servono anche invece per costruire poi delle cose anche belle e importanti al sé il fatto che noi per abbattere maggiormente i disagi delle persone che possono subire un cantiere magari anche per tanti anni ci siamo inventati degli interventi per fare questo tipo di interventi chiaramente devi avere o dalla tua parte l'impresa costruttrice che decide di devolvere l'onere il famoso onere di costruzione che dovrebbero devolvere per opere pubbliche per far sì che il cantiere abbia meno disagi possibili oppure un'istituzione che fa un po' da tramite diciamo a meno che il cantiere non è uno spazio completamente privato e ti viene commissionato dal proprietario del cantiere in sé in questo caso per esempio questo era un cantiere molto lungo perché durava 5 anni andava a sconvolgere completamente un'enorme piazza di Milano in una zona residenziale in più c'era stata una grande polemica perché questo cantiere è andato sostanzialmente ad eliminare tantissimi alberi che erano stati temporaneamente portati in un parco insomma comunque le polemiche erano state numerose il progetto si evolve nel tempo per cui tu inizi a disegnarlo ma poi deve seguire anche la vita del cantiere perché poi il bello dei cantieri è che non sono oggetti stabili abbiamo lavorato inizialmente appunto sulla comunicazione del cantiere alla cittadinanza perché sembra banale ma nessuno sapeva bene che cosa sarebbe accaduto lì dentro e quindi ovviamente timori pregiudizi qualsiasi cosa insomma ha torto o ragione quindi già quella era una prima cosa comunicazione sia in loco sia proprio siamo andati anche a redigere un giornale che distribuivamo porta a porta all'inizio neanche lo volevano quindi le resistenze erano anche psicologiche neanche lo volevano nella casella poi abbiamo lavorato invece su tutta la palizzata che era veramente enorme e sostanzialmente l'abbiamo riattrezzata come vedete per cui già come impatto visivo era sicuramente diverso da avere la classica palizzata di cantiere con a volte dei poster un po' slavaticci e non solo abbiamo fatto delle pareti verdi anche qui affidate poi alla curatela dei residenti ma poi l'abbiamo intervallate con delle piccole isole di incontro perché comunque in quella piazza ovviamente bambini anziani spesso si ritrovavano il pomeriggio per cui gli era venuto un po' a mancare una piazza naturale che avevano quindi l'abbiamo un po' in modo diffuso o ricostruita in tutto il perimetro del cantiere e poi in realtà nel corso del tempo mano a mano che il cantiere si evolveva abbiamo cercato comunque sempre di mantenere delle zone vivibili questo è stato possibile perché siamo riusciti a intervenire nel cantiere in una fase anticipata e quindi non è stato semplicemente un intervento estetico così appiccicato un po' a posteriori questo invece è un altro cantiere in una zona commerciale per cui c'era un enorme buco anche qui si parlava di anni e da una parte o dall'altra c'erano dei piccoli commercianti che quindi venivano completamente tagliati fuori allora noi abbiamo chiesto alla ditta comunque che stava facendo i lavori di costruirci dei ponti di attraversamento che non fossero solo quelli di servizio che servivano per gli operai ma che potessero appunto servire per la cittadinanza e ognuno di questi ponti è stato attrezzato e tematizzato con delle tematiche diciamo per cui un ponte era un po' diventato il ponte del gioco dell'incontro per cui era attraversato da un'enorme panca che saliva su più volumi e che forniva l'occasione alle persone per fermarsi per guardare i lavori che è una cosa che piace tanto agli anziani per ritrovarsi per darsi appuntamento ma anche per giocare un altro ponte e quindi c'erano diversi giochi per adulti per bambini un altro ponte invece era proprio tematizzato per le biciclette per cui l'attraversamento appunto era facilitato perché non c'erano ingombri però su tutti i lati fondamentalmente questi trovavano così dei piccoli servizi che potevano facilitarli dalla pompa per gonfiarsi la ruota se li si sgonfiava inserita direttamente nel legno per cui abbassissi la manutenzione piuttosto che se sei appunto se ti colpisce un temporale estivo tu ti puoi fermare lì nel frattempo ricarichi il cellulare perché c'è una presa elettrica insomma delle piccole cose pensate per i ciclisti che sono un'altra categoria un po' dimenticata a Milano e così abbiamo fatto in tutto tre ponti tematizzati un'altra era proprio un'isola di incontro per cui si cercava invece di lavorare più su aree di sosta e per enfatizzare questa cosa abbiamo anche organizzato degli eventi nel buco finché è stato possibile compatibilmente con i lavori ed era molto bello perché gli artisti si esibivano proprio nel nel cratere e dai ponti invece le persone potevano godere dello spettacolo quindi molto suggestivo anche qui è stato un lavoro possibile perché siamo riusciti a intervenire in una fase molto anticipata dei lavori chiedendo appunto la realizzazione di questi ponti e poi con uno sforzo burocratico incredibile perché per far passare questi concerti in un'area di cantiere penso che siano venuti diversi capelli bianchi a chi si occupa di permessistica però questo per dirvi che ogni tanto ho in mente delle idee anche un po' bizzarre e se insisti 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 ce la puoi fare questo invece è ad oggi l'unico progetto permanente su cui stiamo lavorando questa è una cascina che è nel centro di Milano vicino tra l'altro alla metropolitana ed è una cascina del 1600 di proprietà comunale che era stata completamente abbandonata e resa inagibile tutto nacque tipo 15 anni fa per volontà di un signore che poi è diventato presidente del consorzio Cuccagna che era un residente che voleva andare a fondo per capire di chi fosse la proprietà della cascina perché mai fosse abbandonata e via dicendo intorno a sé ha costituito un consorzio di cui esterni è uno dei membri fondatori di altre organizzazioni no profit quindi sei organizzazioni no profit che si sono messe insieme per avere più credibilità e per anche più risorse nei confronti anche delle istituzioni è stato chiesto di indire un bando di assegnazione pubblica perché ovviamente essendo un patrimonio del comune non poteva essere assegnato è stato fatto un bando e il consorzio della Cuccagna ha partecipato con un progetto molto semplice cioè restituirla per quello che era uno spazio pubblico per cui accesso libero a chiunque la possibilità di godere degli spazi e di alcune attività in modo assolutamente gratuito e poi ovviamente per permettere la sostenibilità economica di questo spazio sostanzialmente un terzo della metratura era dedicato ad attività commerciali quindi il ristorante il bar la bottega è un piccolo stello in questo modo puoi permetterti di offrire due terzi invece di attività metrature e manutenzione completamente gratuito a chiunque passi questo è un progetto molto complesso perché ha a che fare sia appunto con la progettazione degli spazi sia con la creazione di una comunità intorno a questo progetto anche con la comunicazione e con il rapporto con istituzioni ed aziende perché chiaramente nessuno aveva le risorse per rimettere in piedi la cascina visto che si parlava di milioni di euro chiaramente e poi ha aperto tutto un mondo incredibile e fantastico legato alla campagna del milanese che chiaramente negli stereotipi non è esattamente la prima cosa che salta all'occhio pensare che Milano essere una grande città deve avere una grande campagna intorno e invece così è perché ha la seconda campagna più grande d'Italia dopo Roma chiaramente per poter servire tanta cittadinanza e quindi si è creata tutta una relazione con tutti i piccoli produttori del sud Milano e poi in modo più allargato con altri progetti che in Italia stanno andando su questa direzione quindi c'è un lavoro anche qui proprio di racconto diretto di questo tipo di progetto in questo caso noi abbiamo lavorato ovviamente anche sul cantiere della Cascina in modo coerente quindi rispetto anche alle cose che abbiamo visto prima e quindi in fase di cantiere per esempio tutta la palizzata in quel caso eravamo noi stessi committenti quindi ci siamo veramente sbizzarriti abbiamo creato tutta questa palizzata che andava a proteggere poi i lavori all'interno per raccontare soprattutto il progetto perché chiaramente era un progetto non conosciuto a Milano perché la Cascina doveva ancora entrare in funzione volevamo spiegare a tutti che avevamo bisogno anche del supporto dei singoli tant'è che noi abbiamo fatto anche una raccolta fondi sui singoli cittadini sia chiedendo delle donazioni sia invece in fase di cantiere di volta in volta abbiamo organizzato degli eventi lasciando agibili alcune aree e qui chiedevamo sostanzialmente di dare 5 euro per ripagarsi la bibita piuttosto che e tutti quei soldi ovviamente andavano a finanziare il cantiere quindi c'è stata un'operazione da una parte di trasparenza massima sfruttando il cantiere come primo mezzo di comunicazione e dall'altra volevamo comunque dare delle suggestioni per far capire che tipo di progetto sarebbe stato infatti sulla sinistra vedete per esempio tutta una parete attrezzata con dei giochi delle salite c'era una sorta di casetta salita di casetta sull'albero quindi per così già regalare delle suggestioni su che cosa sarebbe stato ad oggi appunto uno spazio verde che a Milano c'è nel gran bisogno uno spazio pubblico e via dicendo quindi c'è stato tutto questo lavoro questo un po' ve l'ho anticipato prima sono alcuni degli oggetti di design che nascono come allestimenti per eventi per cui noi ci immaginiamo come possiamo allestire l'evento però poi dopo mettiamo un po' a frutto tutti gli sforzi fatti e cerchiamo di renderli invece più appetibili per un mercato più ampio per cui spesso poi questi arredi finito l'evento o vengono modificati per uno successivo ma partendo dall'esistente oppure molto più spesso vengono affittati o venduti ad altri organizzatori o anche privati perché è vero che nascono per gli spazi pubblici però nessuno ti vieta se ti piace di metterti in giardino un carrello con l'albero portatile per cui per esempio questo progetto era nato in una piazza dove assolutamente di verde non ce n'era abbiamo montato degli alberi su questi carrelli appunto mobili e abbiamo fatto appunto questo verde temporaneo in pochissime ore quindi molto divertente l'approccio in più il carrello aprendo si creava di per sé delle sedute degli appoggi questa cosa era ovviamente ha un effetto molto scenico quando ne metti cento in contemporanea in una grande piazza dopodiché una alla volta lo puoi vendere a un privato che se lo vuole mettere nel proprio giardino o in un ristorante o in un altro spazio pubblico come vi ho detto prima sicuramente magari lo stile spero è un po' migliorato però appunto lo spirito di base invece rimane un po' quello per chiudere volevo farvi una velocissima panoramica un po' perché appunto l'idea era quella di capire come questi progetti che sono abbastanza difficili soprattutto per l'Italia possono trovare una forma di esistenza soprattutto economica allora in realtà appunto vi ripeto è una testimonianza nel senso che noi facciamo fatica per ogni progetto che facciamo fondamentalmente ogni progetto deve trovare una sua quadra ci sono progetti che vengono fortunatamente o comunque trovano maggior favore nelle istituzioni pubbliche però questa cosa molto spesso succede per esempio all'estero perché sono più abituati anche a sperimentare ci sono progetti che invece trovano una committenza privata quindi un'azienda e lì devi essere molto bravo fondamentalmente a trovare un equilibrio tra l'esigenza di un'azienda che se comunque ti sponsorizza vuole un ritorno e la capacità di non svillire o cambiare troppo la natura il messaggio del progetto quello che vi ho fatto vedere per esempio delle hamache che poi è diventato un progetto sponsorizzato è stato un lavoro veramente di definizione di ogni dettaglio dove abbiamo convinto questa azienda che valeva di più creare queste esperienze particolari in luoghi che per i giovani erano molto significative e mal progettate ed entrare quindi in contatto con queste persone che erano poi le persone che all'azienda interessavano quindi c'era comunque una convenienza a livello di marketing una coerenza per l'azienda però appunto non serviva fare poi la grande pubblicità il grande gonfiabile queste cose ma bisognava concentrarsi e spendere molte più energie perché c'è molto più lavoro se vuoi nella relazione con ogni singola persona per cui tutto era curato perché fosse un ambiente non pubblicitario ma un ambiente dove era bello stare anche perché per l'esperienza che abbiamo noi che poi immagino che sia un po' l'esperienza che ognuno di voi fa nella propria vita privata se hai la sensazione di entrare in un grande gazebo commerciale dove forse forse tra un momento e un altro ti possono anche rifilare qualcosa da comprare per forza magari non hai tanta voglia di starci oppure lo vuoi sapere esplicitamente sta entrando in un negozio e so quello che trovo queste situazioni un po' a metà di solito non fanno molto piacere alle persone invece se tu gli crei un posto dove si sta bene e capiscono che questa cosa è stata possibile grazie ad un'azienda è una delle cose che apprezzano di più oppure un servizio o un contenuto la stessa cosa noi la sperimentiamo con il Milano Film Festival molto spesso le aziende riusciamo a legarle a noi o perché appunto rendono possibile creare questa atmosfera o perché magari si legano a dei contenuti che non abbiamo nessuna paura a dichiarare che sono stati possibili grazie al supporto di certe aziende perché altrimenti non avremmo mai avuto le risorse economiche per metterle in piedi e quindi se tu vuoi godere di due settimane di cinema che arriva da tutto il mondo incontrare registi da ogni parte del mondo e pagare un biglietto di 5 euro c'è qualcuno che deve pagarlo al posto tuo e quindi sei ben felice insomma di trovare un'azienda che fa questo tipo di supporto immagino appunto che ben spiegate queste cose di solito non creano mai nessun problema anche perché sinceramente io lavoro in esternina dieci anni e mi ricordo che qualche anno fa c'era ancora un po' più di paura da parte delle istituzioni culturali nel lavorare troppo con aziende private perché avevano paura appunto di entrare in situazioni incoerenti dal punto di vista dei contenuti o dei messaggi secondo me è un po' la sensibilità delle aziende è migliorata in questi anni per cui alcuni continuano a fare delle cose secondo me un po' fuori dai tempi però alcune aziende invece hanno capito come si comunica e quindi anche loro si fidano perché se decidono di supportare chiamavano attività culturale e io intendo dentro qualsiasi cosa dentro l'attività culturale probabilmente vogliono anche un po' fidarsi del suo approccio del suo modo di fare e poi i stessi organizzatori adesso hanno anche un profilo un po' più multitasking magari una volta il produttore culturale per come si intendeva era molto più artistico molto più focalizzato sui propri contenuti le proprie cose adesso ognuno di voi credo se fa più o meno questo lavoro ha un profilo sia legato ai propri contenuti che può essere il design o quello che è ma anche una visione di come lo vuole già mettere in atto quindi è un imprenditore un po' più nell'approccio a una managerialità un po' più complessa e quindi secondo me si stanno facendo dei progetti che sicuramente hanno molto più senso rispetto magari a qualche anno fa che era molto più difficile farli passare ciò nonostante sicuramente c'è una crisi pazzesca che non è una grande novità e per cui tutti l'hanno sentita in modo catastrofico la capacità di lavorare lo budget sicuramente ti aiuta perché tu hai delle idee e non necessariamente devi mettere in piedi dei grandissimi castelli per farle e poi l'altra cosa è la capacità di portare se si tratta di eventi chiaramente di raccogliere intorno a te tanto pubblico perché noi abbiamo visto per esempio nelle ultime due edizioni di Milano Film Festival quando finanziamenti pubblici e sponsorizzazioni comunque hanno avuto dei tagli importanti che comunque il pubblico c'è stato c'è stato tanto ci ha sostenuto quindi questo vuol dire da una parte psicologicamente ti serve perché se no dopo un'annata difficile dal punto di vista economico dove magari stai rischiando tanto ti deprimi parecchio dall'altra parte è importante perché è lo stesso pubblico che ti aiuta a sostenere il tuo progetto perché comunque partecipando compra un biglietto o magari va al bar e ti aiuta cioè detto banalmente la cultura si alimenta anche con queste forme meno nobili di introito che è per esempio il bar o il gadget o il bookshop ma è una scoperta di tanti anni fa quindi quindi questo era un po' una riflessione di base e poi l'altra cosa appunto un po' sempre su questa riflessione è stato almeno per noi continua a essere il fatto che noi siamo un gruppo veramente trasversale per le competenze che abbiamo che non è stato deciso a tavolino neanche questo però abbiamo sempre aggregato attorno a noi persone che di base condividevano una filosofia ma ognuno di noi ha portato veramente una competenza e poi negli anni ha cercato di crescere in quella che permette ad oggi di creare dei progetti molto molto diversi tra di loro o progetti che hanno dentro tante anime molto complessi quindi quando vai da un'azienda o da un'istituzione tu riesci a essere un soggetto che gli porta un progetto chiave in mano perché riesci a presidiare tante aree e quindi non ti occupi solo di una cosa e quindi questa cosa dal punto di vista del tuo interlocutore è una convenienza perché gli abbatti tanti costi di gestione perché un conto per esempio per sistemare una piazza aver bisogno di relazionarsi con cinque soggetti un conto avere un unico soggetto che è capace o di fare o di mettere lui in rete tutte le competenze necessarie e quindi anche questa cosa ci ha dato se si può dire una sorta di vantaggio in un momento in cui ti devi comunque inventare il lavoro e poi appunto vi farò vedere delle piccole carrelate di progetti super attuali che sono veramente diverse tra di loro e sono stati possibili proprio per quello che vi dicevo prima perché internamente ognuno di noi oltre a seguire le grandi produzioni un po' per passione un po' per competenza riesce a mettere in piedi dei progetti un po' più mirati vi faccio vedere in particolare questi li abbiamo già visti volevo farvi vedere per esempio questo progetto che allora questo apparentemente sembra un po' distante dalle cose che vi ho raccontato questa mattina è un progetto che nasce sotto Milano Film Festival quindi ha molto a che fare con i contenuti e meno con la progettazione di spazi che è stato un po' l'argomento di oggi però in realtà è un progetto che per noi è molto importante perché è stato un momento di riflessione su noi stessi e su tante altre realtà che conosciamo nel senso che noi come immagino altre persone qui in questa stanza siamo delle organizzazioni no profit sicuramente atipiche per quello che è l'immaginario italiano di solito in Italia quando si pensa alle organizzazioni no profit alle associazioni culturali si pensa a qualcosa che è legato a un'immagine abbastanza vecchia o persone che lo fanno per hobby o persone che magari hanno così una patina un po' superata invece noi in prima persona ma conosco tantissime realtà l'incontro quotidianamente fanno queste cose di cui abbiamo parlato tutta la mattina quindi fanno progetti molto nuovi molto innovativi molto inaspettati e quindi abbiamo deciso di lanciare un bando di concorso su web perché poi scusate è lo spazio pubblico per eccellenza se vogliamo usare una metafora per raccontare il no profit quindi è un progetto apparentemente distante da quello che vi ho raccontato in realtà sì e no perché è stato un concorso che ha fatto produrre a diversi registri a diversi creativi dei progetti di web serie che parlino per la prima volta di organizzazioni no profit così come le intendiamo noi cioè magari piccole storie magari storie che escono dagli stereotipi e che tutte insieme possano raccontare finalmente restituire un'immagine a quelli che sono un po' distanti dal nostro lavoro un po' più reale quindi per esempio questa cosa è nata non tanto dalle competenze ma da una riflessione che ci siamo fatti e però è un progetto anche questo apparentemente a scatola chiusa se avessimo avuto un'etichetta molto stretta per cui dovevamo soltanto progettare piazze probabilmente questa cosa non l'avremmo fatta e invece il fatto che a noi non ci interessa tanto appartenere a un filone ma ci interessa quotidianamente dire qualcosa noi ci troviamo una certa coerenza però mi piaceva un po' presentarvelo appunto perché magari può sembrare distante questo è il progetto che vi ho fatto vedere prima delle amache che in realtà si sviluppava in maniera molto più articolata perché oltre alle amache itineranti in Italia in ogni città portavamo altri progetti tutti appunto sponsorizzati dalla stessa azienda e tutti con questa filosofia di riuscire a trasformare in pochissimo tempo solitamente nottetempo degli spazi tradizionalmente vissuti in una quotidianità e spesso vissuti anche male per esempio uno dei progetti più divertenti che abbiamo fatto è stato prendere un tram che quindi di solito è il tradizionale mezzo di trasporto soprattutto per gli studenti inventarci un percorso anche qui con una burocrazia infinita abbiamo lavorato tipo otto mesi che potesse far fare un po' il giro dei locali dell'aperitivo e poi della notte quindi facilitando il fatto che i ragazzi non prendessero la macchina ma a bordo del tram succedevano una serie di cose per cui dall'aperitivo fino alla situazione più club quindi anche con smoke machine e strobo tale per cui molte persone alla fine rimanevano a bordo del tram invece che andare dove dovevano andare all'inizio della serata quindi poi questa cosa un po' si è anche alimentata per cui da un tram ci chiedevano di farne di più e poi c'erano dei punti di incontro per cui sostanzialmente questo tram il capolinea arrivava in una piazza dove c'era un edificio dismesso e dove lì a nostra volta avevamo organizzato più una situazione di festa di club il tutto permetteva tutto un circuito pensato per cui comunque non si dovessero prendere l'automobili o si potevano lasciare in corrispondenza di alcuni grandi parcheggi e lavorando con ATM che è l'azienda di trasporti di Milano si è cercato di fare un progetto che avesse un senso per dirvi questo è stato un altro progetto che tra l'altro visto che il nostro sponsor era una birra era perfetto perché se tu sei una birra e ti sto dicendo di prendere mezzi pubblici più di così non si può e quindi appunto come vi dicevo non c'è stato nessun problema a farlo con una sponsorizzazione di un'azienda non ha tolto un grammo al messaggio che volevamo trasmettere anzi avevamo anche la birra da ara bordo per cui era veramente una situazione ideale quindi per dirvi uno pensa sempre a che cosa vorrebbe godere lui nella sua vita quotidiana cioè almeno noi quando pensiamo a un progetto non rispondiamo mai a delle richieste pubblicitarie a volte ci chiamano le aziende per chiederci delle cose molto orientate al commerciale e al pubblicitario e noi di base non rifiutiamo mai però gli proponiamo un progetto molto nostro poi se lo accetti bene se non lo accetti noi sappiamo fare questa cosa qua la riflessione che io mi faccio sempre quando scrivo un progetto è ma io qui ci andrei o sto scrivendo una cosa che è fatta magari per un marketing manager di 50 anni che ha 20 anni che non va in giro e quindi appunto l'esempio del tram come vi dicevo è un ottimo esempio tra cosa si può fare comunicando te stesso e non perdere veramente nulla in coerenza questo è un altro progetto anche questo abbastanza avventuriero che abbiamo fatto per Barilla dove abbiamo messo insieme tante competenze che avevamo perché sostanzialmente loro hanno un'enorme azienda a Parma che è in tutti gli effetti uno spazio se non pubblico come proprietà sicuramente di pubblica frizione perché ci sono più di 2000 dipendenti e tantissimi sono giovani che arrivano da ogni parte del mondo per cui quello che ci hanno chiesto è di ripensare gli spazi e alcune attività perché effettivamente potessero essere molto più stimolanti e motivanti pensando soprattutto in primis al giovane neoassunto che magari arriva dall'altra parte del mondo e che quindi può avere così un'idea arrivando a Parma un po' ridotta abbiamo lavorato da una parte mettendo a frutto quanto di buono c'era in azienda a partire per esempio da un archivio sterminato di comunicazione che hanno e di opere d'arte perché è un'azienda dove c'è un museo diffuso di arte contemporanea e moderna incredibile quindi come prima cosa l'abbiamo messa a disposizione di tutti e quindi già lì il lavoro era molto facile e poi abbiamo veramente ridisegnato degli spazi che erano molto tradizionali i classici uffici un po' disegnati negli anni 70 che non erano esattamente dei posti molto stimolanti perché fossero molto informali e orientati a far lavorare persone in gruppo di background molto diversi che sinceramente non erano niente di sconvolgente nella nostra mentalità perché tutti i giorni lavoriamo in spazi di questo tipo sicuramente qui un po' più rifiniti con anche delle particolarità perché c'erano degli stimoli che questi spazi davano quindi più pensati però invece in un ambiente molto formale come può essere una grande azienda ti accorgi che ha un impatto veramente devastante perché sono persone abituate veramente a lavorare in spazi molto precisi dove si possono fare azioni molto precise tutto quello che non è previsto di solito non si può fare invece abbiamo avuto la possibilità di fare un progetto veramente un po' sperimentale addirittura qui c'era una piccola immagine di questo tavolo molto particolare perché era un enorme tavolo che in realtà per chi voleva era un tradizionale piano di lavoro per chi così avesse voglia di essere un po' più curioso un po' più interattivo quindi è tutto molto lasciato poi all'intraprendenza del singolo in realtà si scopriva che possedeva una serie di meccanismi incastri di stimoli appunto tutti assolutamente manuali che potevano un po' così far partire la fantasia e l'iniziativa del singolo per cui magari toccando scopri che c'è una ribalta dentro questa ribalta trovi un oggetto questo oggetto scopri che magari è compatibile in un'altra zona del tavolo e via dicendo e magari ti apre una superficie al tatto diversa e via dicendo sempre non cose pazzesche ma se pensate al contesto e al fatto che queste persone si sentono molto trattenute la possibilità invece di far sì che chi ha una personalità invece un po' più estroversa possa trovare un ambiente dove non si sente soffocato è abbastanza significativa anche perché vi ripeto qui insistono duemila persone quindi è una bella piazza ed è la cosa bella era anche che c'era molta multiculturalità anche da tenere presente perché ci lavorano persone di ogni parte del mondo quindi come esercizio è vero che era uno spazio di proprietà privata ma è stato un ottimo esercizio da quel punto di vista e abbiamo semplicemente messo a frutto tutto quello che sappiamo fare e che ci inventiamo poi nelle nostre produzioni che nascono per nostre iniziative quindi io un po' ed ho unito un po' questa carrellata vi ho bombardato di cose ma mi avevano chiesto così e no l'unica cosa quello che spero che vi sia un po' rimasto appunto la cosa che ci teniamo un po' a far passare da una parte è appunto che in realtà per noi lo spazio pubblico più che un luogo di lavoro è una filosofia e dall'altra che se ci ragioni una quadra del cerchio una sostenibilità la trovi laddove non la trovi a volte o è perché il progetto è veramente di frontiera ma pensi che vada fatto e quindi però fai altri progetti che poi te lo possono permettere perché da qualche parte devi trovare le risorse oppure valuti che è un investimento tale che ti può dare poi uno sviluppo futuro quindi queste sono le valutazioni che abbiamo fatto noi ed è un'esperienza assolutamente singola come vi ripeto però magari poi avrete altre testimonianze di persone che sono ricchissime grazie allo spazio pubblico e quindi vi sveleranno il segreto grazie grazie a voi Quali birra erano voi conosciute? Miller che è di birra Peroni però è una birra americana poco conosciuta che arrivava da delle esperienze per loro assolutamente fallimentari perché avevano fatto degli enormi concerti tipo festival bar cose di questo tipo dove avevano avuto grandi numeri ma nessun contatto con le persone e quindi in realtà in quel caso il lato incoraggiante è che ci aveva contattato la madre patria americana che cercavano proprio dei progetti diversi fortunatamente siamo stati selezionati da loro perché appunto come vi dicevo prima molto spesso noi siamo stati capiti più all'estero che in Italia adesso un po' meno ci ha restato abbastanza più facile però mi ricordo in quell'occasione erano stati proprio gli americani che stavano facendo un po' di ricerca di cose un po' non convenzionali in Italia a chiederci un progetto quando siete partiti avete cominciato con la situazione con? scusami? quando siete partiti con i progetti come avete cominciato la loro situazione allora sì i fondatori sono cinque non più ragazzi nel senso che hanno tutti più o meno sulla quarantina adesso loro hanno iniziato nel 95 e hanno fatto una classica associazione culturale l'associazione ancora esiste nel senso che esterni è un'associazione culturale semplicemente nel tempo quando siamo riusciti a così ad incrementare il numero di progetti per una questione appunto anche proprio di sicurezza di di credibilità abbiamo affiancato una piccola SRL con cui facciamo tutti i progetti che ci vengono commissionati mentre invece tutte le produzioni che nascono interne a noi può essere Milano Film Festival o continuano a essere prodotte dall'associazione anche perché le due realtà in realtà sono assolutamente vincolate per cui tu sostanzialmente con i progetti commissionati che possono avere un budget grande o piccolo non importa ma hanno un budget certo e quindi tu sai più o meno che quando entrano un guadagno ce l'avrai piccolo o grande quel guadagno va nell'associazione e permette di fare altri progetti questo perché appunto negli anni le sponsorizzazioni e le istituzioni pubbliche hanno tagliato drasticamente i fondi e quindi è nata un po' l'esigenza dell'autofinanziamento di base quindi questo è stato un po' il percorso però il personale in realtà non c'è distinzione cioè sono due cose che servono appunto come strumento di lavoro il personale è assolutamente fluido non c'è assolutamente differenza abbiamo un unico ufficio sovraffollato di persone e lì si lavora quanto alla partecipazione di designer o collettivi ai vostri festival vi rendete conto che sarebbe anche un motivo di crescita per chi partecipa ma allora innanzitutto è nata perché era una crescita per noi nel senso che avevamo voglia di incontrare delle persone che ci piacevano e quindi la possibilità di ospitarle e fare delle cose insieme ci piaceva e poi ci siamo accorti che creando delle situazioni attive sicuramente per esempio per uno studente di design è un'occasione incredibile ogni volta che abbiamo fatto dei workshop hanno partecipato anche quando magari chiedevamo tanto tempo tante energie da dedicare magari due o tre settimane full time di lavoro e poi però anche per l'appassionato perché comunque è la possibilità di incontrare delle persone interessanti che magari arrivano da altri paesi che ti portano un'esperienza un modo di fare in un contesto divertente e quindi è comunque una fonte di arricchimento io credo anche che sicuramente mediamente negli eventi culturali partecipano di persone di solito che sono già un po' più sensibilizzate un po' più pronte a sperimentare non è il classico pubblico televisivo che è abituato ad essere più passivo questa è un'opinione che mi sono fatta io però io penso appunto che se hai l'occasione a livello anche gratuito di incontrare una persona che arriva da New York che ti dice ah ti insegna a fare questa cosa magari è anche simpatico perché no male che va mi sono portata a casa un quarto d'ora dove ho avuto uno squarcio in più addirittura la formula più complicata da questo punto di vista di coinvolgimento l'abbiamo sperimentata sempre con un progetto legato all'ospitalità che si chiama Bed Sharing che è una sorta di piattaforma tipo Airbnb ma molto tematizzata per cui tu quando c'è per esempio il Salone del Mobile o Milano Film Festival lì funziona benissimo tu devi ospitare in città 200 registi che arrivano in ogni parte del mondo chiediamo allora alla cittadinanza di dare un letto una stanza secondo di quello che hanno per ospitare un regista quindi non una persona a caso se io sono appassionato di cinema io sono ben felice di ospitarti perché se mi dicono che posso ospitare magari appunto un regista francese conoscerlo io magari sono studente o amo il cinema poi andiamo al festival incontriamo altra gente tu regista conosci altri registi mi fai conoscere cioè si crea veramente una serie di relazioni e tutti quelli che hanno aderito a questo progetto sono stati super felici perché lì l'elemento di forza è proprio la tematizzazione di un grande evento che porta in una città persone che condividono una grande passione e similarmente quando c'è appunto un coinvolgimento attivo durante l'evento di un collettivo di designer se hai voglia di andare ad un evento e essere disposto a portarti a casa qualcosa a livello di esperienza noi ti diamo degli stimoli poi chi vuole viverla in modo passivo lo può fare cioè nulla è obbligatorio per cui se vuoi andare ad un evento ascoltare la musica passare al bar e comprarti il cocktail e sei felice va bene anche così chi vuole invece fare un passo in più riceve degli stimoli maggiori tutto qui ci sono anche delle collaborazioni nel tempo che sono nate da quelli che erano spettatori che magari erano studenti che poi hanno fatto amicizia con dei designer poi si sono risentiti e poi hanno fatto delle cose insieme cioè sono delle storie alla fine umane che passano ed è molto divertente te lo chiedevo come testimonianza anche mia perché sono stato selezionato al public design festival di questa quindi volevo un po' anticipare un attimo di gloria quest'anno ah quest'anno no più che altro la mia domanda era perché ma scusami che progetto era quest'anno cucina di momange ah ok scusami non riconosco le fatte no ma la domanda perché l'ho fatta perché volevo anche capire il cioè quello che dici tu poi l'ho ritrovato in quello che abbiamo vissuto però mi interessava senza dire questa cosa qual era effettivamente diciamo anche il la mission tra virgolette di esterni nel coinvolgimento di altre realtà che poi sono a livello sia nazionale che internazionale e è proprio è sempre stato con noi nel senso che ci piace fare le cose cioè non necessariamente per forza appunto molto spesso non so se vi è capitato per esempio quando dovete fare dei bandi vi chiedono necessariamente di fare rete la rete ad ogni costo secondo me non paga perché di solito sono delle reti molto fasulle che ti impongono per fare appunto questo tipo di attività però il fatto di conoscere gente di altre città che ti portano altri punti di vista che poi magari rincontri che tu ospiti e poi domani ti chiamano loro per fare un'altra cosa secondo me è una cosa bella anche perché è un modo per crescere cioè alla fine ognuno conosce molto bene il proprio territorio e poi ha l'occasione di sperimentarsi con territori nuovi poi tu stesso avrai visto invece dal punto di vista del pubblico che quella stessa piazza dove siete stati una settimana aveva dei momenti dove naturalmente era più facile comunicare più messaggi far partecipare di più le persone la sera dell'inaugurazione secondo me è stato bellissimo perché le persone nonostante ce ne erano tante hanno partecipato a una performance legata al cibo ma dove erano loro parte la performance non è che stavano a guardare per cui ognuno entrava in un'area definita e poteva andare ad assaggiare delle cose con una determinata modalità insomma era un percorso particolare fatto apposta per quella serata in altri momenti magari a luna di notte del sabato sera dove c'era tantissima gente si respirava soltanto invece l'aria molto più leggera di divertimento c'è una festa in piazza perché c'erano 5.000 persone è chiaro quindi ci sono momenti dove fai passare questi messaggi meglio i momenti dove la gente vuole soltanto divertirsi ci sta sarebbe anche brutto ogni momento martellarli di così di messaggi impegnativi la gente dopo un po' diceva beh basta quindi però ci sono stati dei momenti dall'inaugurazione o la domenica finale anche a pranzo abbiamo fatto un picnic molto bello un picnic in una piazza di Milano che dice perché la gente dovrebbe venire a farsi un picnic che non può stare a casa sua e invece venivano perché gli piaceva probabilmente far parte di questa cosa che sapevano che il giorno dopo non ci sarebbe più stata e quindi era una bella atmosfera di base grazie e comunque era molto buono ma tu eri in ostello sì adesso ho riconosciuto la faccia ok ho capito tutto grazie grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi